Buongiorno al notario Giorgia Manzini. Buongiorno Susanna, buongiorno a tutti. Uno dei temi che più interessano i telespettatori è la vita in condominio, ne riparliamo in particolare partendo dal fatto che c'è una guida del notariato molto utile e poi i temi principali a partire da quella che riguarda le spese di condominio, sempre molto discussione su questo. Infatti vivere in condominio è come dire un male necessario, cioè crea molte comodità ma anche molti conflitti per questa condivisione degli spazi ravvicinati e così il notariato nel 2023 ha pubblicato una guida con i casi controversi più comuni spiegando le regole del Codice Civile. Le spese condominali sono proprio uno di questi aspetti che genera maggiori conflitti. Quindi le spese a cui dobbiamo partecipare in proporzione al valore della nostra unità immobiliare sono quelli per la conservazione e il godimento delle parti comuni, per l'erogazione dei servizi di interesse comune, per le innovazioni deliberate a maggioranza. Come si partecipa a queste spese condominali? Normalmente in proporzione, ma la legge consente che vi sia un patto contrario. E questo diverso criterio di ripartizione delle spese condominali non in proporzione rispetto al valore della nostra proprietà può essere previsto nel regolamento condominiale. Ecco che sotto questo aspetto è intervenuta la giurisprudenza per affermare che non è possibile derogare al principio della proporzionalità nella partecipazione alle spese condominali se non all'unanimità. Quindi eventualmente in uno di quei regolamenti condominali che chiamiamo contrattuali, cioè firmato da tutti. Certamente non nel regolamento condominiale assembleare che è quello approvato a maggioranza. Ci sono poi parti comuni che possono servire in modo diverso a singoli condomini. Ecco che qui il principio proporzionale nella ripartizione delle spese condominali viene derogato perché prevale il principio dell'uso. Ci sono inoltre parti comuni nei cosiddetti condomini parziali che possono servire solo a singole parti dell'edificio. Pensiamo alle scale, ai cortili, ai lastrici solari. Ecco che in questo caso allora ci sarà solo un gruppo di condomini che parteciperà alla ripartizione di queste spese condominali. E l'amministratore come deve fare? L'amministratore deve riscuotere questi contributi secondo un piano di riparto che viene approvato dall'Assemblea. E per le delibere che prevedono lavori di manutenzione straordinaria è obbligatorio, dopo la legge di riforma del 2012, è obbligatorio costituire un fondo perché il condominio possa affrontare queste spese straordinarie sulle parti comuni. Questo fondo poi in caso di vendita la parte corrispondente al venditore deve essere restituito o dal condominio e sostituito con il contributo dell'acquirente o fra venditore e acquirente. E i notai si occupano di questi aspetti nei rogiti. Ecco, notai, come sappiamo, e tutto si basa, o gran parte dei calcoli si basano sui millesimi, i millesimi possono essere modificati? Ecco, le tabelle millesimali sono un altro aspetto molto importante perché è un criterio matematico di proporzione in base alla superficie delle nostre unità immobiliari, unitamente ad altri criteri. Vengono di solito redate dal costruttore in fase iniziale oppure possono essere approvate successivamente dall'assemblea e le tabelle millesimali determinano proprio la partecipazione ai nostri diritti e agli obblighi condominali. Ma cosa succede se c'è un errore? I telespettatori ci hanno chiesto, ma la tabella millesimale è sbagliata. Può essere modificata? Allora, la modifica, secondo il Codice Civile, in particolare l'articolo 69 delle disposizioni attuative, è consentita solo all'unanimità. Però in alcuni casi, ecco che anche la maggioranza, certamente una maggioranza qualificata, che preveda la maggioranza degli intervenuti che rappresentino oltre un mezzo del valore dell'immobile, può modificare le tabelle millesimali in caso di errore oppure di mutamento dello stato dei luoghi che vada ad alterare la proporzione del valore di un'unità immobiliare di oltre un quinto. Quali possono essere questi mutamenti? Per esempio una sopraelevazione o vengono soppresse delle unità immobiliari ed accorpate. Ecco che in questi casi anche la maggioranza può modificare le tabelle millesimali. L'iniziativa poi di questa revisione può essere presa anche da un singolo condomino che deve sollecitare l'amministratore di condominio. Se l'amministratore di condominio rimane inerte, ecco che per legge il condomino interessato può rivolgersi all'autorità giudiziaria affinché stimoli con i dovuti mezzi dell'amministratore di condominio a convocare l'assemblea e ad adottare gli opportuni provvedimenti. Ecco Notaio, sappiamo che uno dei problemi è quello del fatto che a volte capita che i condomini non paghino le spese di condominio. Allora in questi casi l'amministratore cosa può fare? Ecco, l'amministratore ha alcuni strumenti previsti dalla legge. Innanzitutto deve comunicare ai creditori quali sono i condomini morosi e i creditori del condominio devono prima escutere il patrimonio del condomino moroso poi però possono agire per legge contro i coobbligati in regola con i pagamenti e cioè contro gli altri condomini che pagano sempre devono comunque all'esterno affrontare e accollarsi le spese del condomino moroso salvo poi il diritto di rivalsa. L'amministratore può inoltre sospendere i servizi comuni all'inquilino, al proprietario moroso per oltre sei mesi e tuttavia occorre rispettare anche la riservatezza di questi condomini morosi che non pagano le spese condominali. Pensate che è stato condannato a risarcimento d'anno dalla Cassazione nel 2022 un amministratore di condominio che aveva esposto l'avviso di convocazione con i nomi di questi condomini in ritardo nei pagamenti nell'androne comune. È stata ritenuta un'indebita diffusione di dati personali che erano comunque già stati comunicati privatamente ai singoli condomini e ai creditori e quindi l'amministratore è stato ritenuto responsabile di risarcimento del danno. C'è un messaggio a una persona che chiede dove si possono consultare gli indici ufficiali da applicare per il calcolo dei millesimi? Ci sono le normative specifiche. In ogni caso lei si rivolga all'amministratore di condominio esattamente come fanno i nostri acquirenti che non possono farlo direttamente ma devono richiedere questi documenti ai venditori e ci sono dei criteri per calcolare queste tabelle millesimali che comunque sono criteri matematici cioè la discrezionalità in questo caso non è prevista. L'amministratore è obbligato a conservare queste tabelle millesimali che normalmente sono allegate al regolamento di condominio. Sappiamo che il regolamento di condominio è obbligatorio quando ci sono più di dieci condomini. Nei condomini più piccoli le tabelle millesimali comunque esistono e normalmente vengono approvate separatamente autonomamente senza regolamento di condominio. Maria dice che abita al primo piano e paga l'ascensore come il quarto piano poi aggiunge siamo in due ma al quarto ci sono sei sette in una famiglia. Prima si pagava persone e piano dice Maria. I criteri di ripartizione sono per l'ascensore proprio che è uno dei casi tipici sono previsti dalla legge e sono previsti in relazione all'uso quindi i piani più alti pagano di più e questo perché è prevista spesso una nei condomini più grandi una tabella millesimale specifica la tabella ascensore che può essere diversa dalle tabelle millesimali generali quelle che prevedono i quorum partecipativi eccetera in questo caso quindi il pagamento è in proporzione all'uso che se ne fa il primo piano paga sicuramente meno l'uso dipende anche dal numero delle persone quindi se non c'è un amministratore occorre trovare un accordo stabilire un criterio anche con l'aiuto di un consulente di un avvocato eventualmente di un notaio perché l'ascensore la ripartizione delle spese comuni è proprio prevista dalla legge c'è una norma del codice civile ecco notai quando si acquista come bisogna fare per tutelarsi rispetto alle spese eventualmente non pagate dal precedente proprietario è un aspetto molto importante di cui i notai si occupano perché vale una regola per le spese ordinarie vale la data del rogito e cioè dal giorno del rogito subentra il nostro acquirente nel pagamento delle spese condominali diciamo giorno del rogito o della consegna dell'immobile talvolta può essere differita finché il venditore rimane dentro sarà lui a dover pagare le spese condominali per le spese straordinarie invece ecco che vale la data della delibera adottata cioè il soggetto che ha adottato che ha votato a favore di questa delibera ecco che dovrà sostenere le spese quindi il venditore si troverà a dover pagare costi di opere che verranno magari eseguite quando ha già venduto e che comunque sono state deliberate prima di questo si terrà conto nella trattativa quando si stabilisce il prezzo ecco che se ci sono opere straordinarie che devono ancora essere eseguite e le spese sono a carico del venditore ma dell'opera se ne avverrà sicuramente l'acquirente ecco che allora questo può essere un elemento che modifica le nostre condizioni contrattuali ecco si parlava prima di parti comuni si può rinunciare una parte comune se non si vogliono affrontare le spese pensiamo che la rinuncia a una quota di comproprietà è un istituto generale non previsto da una norma specifica ma da singole norme che ne disciplinano vari aspetti come funziona ai sensi dell'articolo 1104 del codice civile il comproprietario che non vuole più partecipare alle spese relative a un bene comune può rinunciare alla sua quota che si accresce automaticamente a vantaggio degli altri comproprietari in modo unilaterale senza che questi possano esprimere il consenso questo principio generale che applichiamo spesso anche in relazione alla crisi immobiliare degli anni scorsi di queste rinunce ne sono state fatte tante proprio dal comproprietario che vuole liberarsi dei costi di una cosa comune rinuncia alla quota questo principio è vietato non vale c'è il divieto di rinunciare le parti comuni quando si tratta di comproprietà condominiale questo proprio per regolare il funzionamento del condominio io non vado mai in cortile non voglio partecipare alle spese di pulizia e manutenzione del cortile non funziona così si può solo rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento e di condizionamento a patto che ciò non alteri l'equilibrio di questo impianto e non comporti un rilevante aggravio di spesa per gli altri condomini ecco che quindi ci si può staccare dal riscaldamento centralizzato questo la legge lo prevede espressamente ma si continuerà comunque a contribuire alle spese straordinarie alla messa a norma e alla manutenzione straordinaria dell'impianto centralizzato che comunque rimane una parte comune del condominio Notaio sempre più famiglie hanno animali ma si può vietare di avere animali in un condominio? Anche gli animali possono alterare comunque influiscono sulla convivenza condominiale è intervenuta una norma è stata modificata una norma con la legge di riforma 220 del 2012 del condominio che ha sancito il divieto di vietare di possedere o detenere animali domestici nelle singole unità in proprietà individuale nel condominio allora ci si è chiesti ma quali sono gli animali domestici? Tutti gli animali che siano comunque addomesticati un cucciolo di tigre che sia buono buono perché è abituato alla convivenza con gli umani un serpente ecco che la teoria più accreditata è quella che per animali domestici ci si riferisca la norma si riferisca proprio a quelli con cui l'uomo convive abitualmente per compagnia o di letto quindi quelli a cui siamo abituati cani, gatti eccetera ma può il regolamento di condominio vietare questa convivenza con animali? Pare che all'unanimità un regolamento quindi contrattuale di quelli firmati approvati da tutti i proprietari ciò sia possibile tuttavia è un patto che violando il divieto previsto dalla legge il divieto di porre il divieto ecco che verrà solo per coloro che hanno approvato la norma e quindi se si vende l'immobile il nuovo acquirentes soggiacerà unicamente a questo articolo 1138 del codice civile che prevede appunto il divieto quindi la possibilità di poter detenere animali pensiamo anche che nel 2022 gli animali sono entrati di diritto nella nostra Costituzione all'articolo 9 quindi è stato previsto che la Repubblica tutela l'ambiente l'ecosistema la biodiversità anche nell'interesse delle nuove generazioni e la legge deve disciplinare per previsione costituzionale i modi e le forme di tutela degli animali Notario c'è un messaggio una persona dice i millesimi scala utilizzati per ripartire le spese pulizia scale sono uguali ai millesimi utilizzati per la ripartizione delle spese ascensore? Ecco anche questo può essere un criterio diverso perché anche qui ci può essere un uso diverso spesso c'è una tabella millesimale c'è un criterio matematico per la ripartizione in proporzione di queste spese diversa anche per le scale proprio perché ci può essere un uso diverso delle scale quindi bisogna guardare nel regolamento nel regolamento bisogna e in ogni caso l'assemblea può sempre andare ad intervenire su questi aspetti ricordiamoci però che la modifica delle tabelle millesimali deve avvenire all'unanimità salvo i casi di errore o di rilevante modifica della posizione di un'unità del valore proporzionale di un'unità immobiliare che superi un quinto grazie Notario per essere stata con noi grazie buona giornata ci vediamo la prossima settimana stesso giorno stessa ora